È stata una giornata un po' complicata in quanto l'ordine di partenza è dato dalla classificata l'anno precedente quindi noi ci siamo classificati i noni e avevamo nove nazioni davanti. Il terreno è estremamente polveroso e di conseguenza i nostri piloti non sono riusciti sempre a trovare condizioni adatte non relative al terreno ma alla visibilità. In certi momenti hanno davvero guidato alla cieca e bravi i nostri rivali però bisogna dire che partivano davanti quindi le condizioni di guida erano completamente differenti. Domani partiamo in base alla classificata assoluta di oggi quindi le condizioni dovrebbero essere un po' migliori abbiamo guadagnato posizioni, siamo quarti oggi con il trofeo e primi con il vaso quindi speriamo che le condizioni visive siano migliori. Ciao ragazzi, è finito il primo giorno. È stato un giorno abbastanza difficile più che altro per la polvere. Eravamo come squadra un po' da risultato l'anno scorso un po' penalizzati perché con tanta polvere si partiva un po' in elettrovia soprattutto i miei compagni per le cilindrate più grosse siccome va a ordine cilindrata hanno sofferto di più io sono riuscito un po' a sfruttare questo e fare un buon ritmo soprattutto in due speciali che mi sono trovato molto bene ho fatto quinto assoluto, la squadra c'è e dobbiamo limare un po' però domani si partirà a ranking dell'assoluta quindi saremo tutti molto più avanti. Io spero di continuare con questo ritmo, sicuramente i miei compagni miglioreranno quindi secondo me potrebbe essere una buona giornata da iniziare. Gli altri vanno molto forti, non bisogna nasconderlo però comunque siamo qua per lottare fino alla fine. Io sono contento della mia giornata e come ho detto avendo perso tanto quest'anno e in finale di stagione sto facendo un po' le gare che non ho fatto a metà anno quindi speriamo di continuare la tre giorni così. Ciao! Ciao a tutti, siamo qua dopo il primo giorno qui in Cile e allora giornata impegnativa, molta polvere, tanta tanta polvere partivamo dietro tanta gente molto lenta e quindi prendevamo in speciale anche fino a 5-6 piloti e comunque dai sono abbastanza contento, ho chiuso il sedesimo assoluto, quarto assoluto junior e con la squadra siamo in testa sulla Francia di 13 secondi e quindi dai come inizio può andare bene e adesso da domani si parte con l'ordine della salute di oggi quindi sarà sicuramente meglio per quanto riguarda la polvere e comunque dai spingiamo e proviamo a dare il meglio di noi come sempre.